Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di istruzione superiore statale Galileo Ferraris AC Reale. Sezioni Industriale e Geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazione, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione Geometri, Costruzioni, Ambiente e Territorio.